Non è quello che abbiamo fatto in settimana, ma è quello che stiamo facendo dall'inizio dell'anno. Oggi veramente le ragazze sono state eccezionali dall'inizio alla fine, perché hanno mantenuto un livello di gioco altissimo e hanno fatto tutto quello che abbiamo provato in settimana e che avevamo studiato contro di loro. Quindi oggi c'è stata un'ottima applicazione dal punto di vista tattico, ma soprattutto oggi ci hanno messo il cuore, ci hanno messo la voglia, ci hanno messo la grinta, ci hanno messo la palla a volo, ci hanno messo il gioco, quello che chiedo sempre io, di giocare. Forse ha sbloccato qualcosa anche la gara di Montecchio, dove per lunghi tratti avete tenuto testa un avversario molto forte di questo girone, ma soprattutto a livello psicologico, l'hai anticipato anche te, oggi erano in partita. Anche quando Soverato ha provato a mettervi un po' di pressione e difficoltà, avete risposto sempre? Sì, sì, Soverato sicuramente ha provato a metterci in difficoltà. Le nostre sono state eccezionali, perché veramente sono state in ritmo tutta la gara. Quindi anche nel momento un po' più di difficoltà hanno trovato le soluzioni giuste nei momenti complicati. Oggi è veramente incredibile.